L'applicazione è uno strumento digitale che si scarica, che permette ovviamente a livello nazionale di tracciare i contatti. Dopo attenzione però che dopo che non diventa una cosa utile adesso è dannosa dopo. Qui sta Ello! Perché non si sa mai. Ma io penso che ci sia una libertà totale. Monitoraggio, certo. Sono in coraggio, no in coraggio. Non monitorate così. Controllare, 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 controllare. Veri contatti di quella, di quel telefonino. Non monitorate, ma è 100%? No, non lo scaricherò di sicuro. This is The Morning Show. No, non lo scaricherò di sicuro. 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 No, non lo scaricherò di sicuro.